Stigliano dice grande Pino cosa ne pensi di Cannibal Corpse? Grande band, l'avevo già detto ci avevamo suonato insieme in Sardegna, grande band, grande band. Fabio Bianchi dice ciao Pino cosa ne pensi di Gian Maria Volontè? Secondo me Gian Maria Volontè era uno di quegli attori, quelli che fanno la differenza, naturalmente quelli impegnati nel periodo poi dove la sinistra contava, era la sinistra quella vera, quella di Berlinguer, quella che contava. Grande attore, ho sempre avuto un grande rispetto per lui, ha fatto dei film veramente importanti.